Andare al mare in tranquillità con i propri amici a quattro zampe, senza ascoltare le lamentele dei vicini di Ombrellone, è possibile. A Sabaudia, grazie alla collaborazione tra Comune di Sabaudia e l'Associazione Mondo Cane Sabaudia, riapre la Sabao Beach, la spiaggia attrezzata per i cani. Situata lungo la strada al lungomare Pontino di Sabaudia, la spiaggia si estende per circa 80 metri ed è accessibile dalla passerella A17 al chilometro 2750 in corrispondenza di Sant'Andrea. L'ingresso è libero tutti i giorni dalle 9 del mattino alle 19, è importante che i padroni degli animali si assicurino che i loro amici siano vaccinati e muniti di microchip o tatuaggio identificativo. Un servizio di qualità che rende unico il nostro litorale, ha commentato il sindaco Mosca, Sabao Beach rappresenta una vera e propria oasi estiva di eccellenza per gli amanti degli animali e i loro cani. Insieme potranno trascorrere momenti di svago e relax sulla spiaggia. È un'occasione unica per i proprietari, finalizzata anche a socializzare e condividere esperienze ed entusiasmo. La spiaggia attrezzata è gestita a titolo gratuito dai volontari dell'Associazione Mondo Cane Sabaudia, che metteranno a disposizione gratuitamente ombrelloni, sedie, un punto di presa per acqua potabile, ciotole, palline e sacchetti per le deiezioni e altri servizi essenziali per una serena giornata in compagnia del vostro o dei vostri amici a quattro zampe. Questa iniziativa è nata dall'esigenza del santo e delle persone che non hanno il cane e non si volevano mai riuscire. Quindi noi ci siamo da 11 anni, questa è un 16 stagione.